e allora terminata anche la prova ragazza e dei cento stile saliamo alla categoria junior serie numero otto in acqua per la settima nuoteranno dalla prima alla settima corsia Silvia Finocchietti Alice Perolari Samantha Taglioni Elisa Zanella Valentina Bina Luisa Rizzo e Giorgia Portesi intanto ancora in zona podio per le premiazioni Franco Salvador Edoardo Filippo Valente Luca Bidoccia zona premiazione intanto Irene Vivaldi Gum Team 1699 grazie a tutti i dati Grazie.